Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto categorie Swarovski Elements Beads. Brillante in assoluto. Il nuovo Xylion Bead e la prima perlina Xylion con il taglio brevettato Xylion della Swarovski convince con una brillantezza eccezionale e garantisce un'impressione affascinante. La nuova perlina XLLION Bead è disponibile in una grande varietà di colori ed effetti. Con la nuova perlina Xylion la Swarovski non sola estende la sua gamma, ma allargandola di nuovi ad altissima e indiscutibile qualità. Una grande varietà di perline Xylion Bead, 126 colori possono essere combinati con 20 effetti una scelta multiforme inclusa il più piccolo bicono del mondo da sempre attenta ai nuovi trend e in linea con le esigenze della moda e del mercato saranno introdotti nuove forme, colori ed effetti. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.